I titoli di From Software sino a qualche anno fa per me rappresentavano un territorio inesplorato e nel quale non desideravo avventurarmici. A tenermi lontano da questi titoli era per lo più la nomea di questa alta difficoltà che li permeava quanto sapere dell'esistenza all'interno di questi giochi di una lore densa di segreti da interpretare da scoprire da leggere in una maniera che insomma non era affatto semplice e lineare come ero sempre abituato. La mia prima esperienza con i giochi From la devo ad un caro amico che mi fece provare grosso modo per un'oretta Dark Souls 1 su PS3 e rimasi alquanto neutro riguardo quell'esperienza che sì mi sembrò decisamente diversa rispetto a qualsiasi cosa avessi mai giocato sino a quel momento ma non mi piacque moltissimo. Probabilmente è stato nel 2017 che ho effettivamente preso in mano Dark Souls per conto mio giocandolo per la prima volta tramite vie traverse in quanto ero convinto che insomma questo titolo non mi sarebbe piaciuto non mi avrebbe soddisfatto e quindi era inutile acquistarlo se tanto poi insomma l'avrei chiesto comunque un refund in tempi molto brevi. Ebbene non voglio qui stare a ripercorrere tutta la mia run su Dark Souls, la mia intera run su questo titolo From perché credo basti aver pronunciato la parola intera per dare un'idea di come andarono le cose. Teniamo bene a mente che io comunque ero davvero ma davvero in blind run quando ho giocato a Dark Souls nel senso che mi sono approcciato ad un titolo veramente senza avere idea di qualsiasi aspetto del gioco tantomeno di quelli che avrebbero potuto agevolarmi. Cioè per intenderci io non sapevo nemmeno la differenza tra Fatroll e Midroll quando ho giocato Dark Souls la prima volta. Sta di fatto che quel titolo che non avrei dovuto acquistare che sicuramente mi diluderà e via dicendo mi spense non solo ad acquistarlo ma anche a conto ai capitoli successivi se possiamo chiamarli così ovvero Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Non c'è alcun bisogno di parlare della mia esperienza con questi due titoli quanto di evidenziare qualcos'altro che ormai stavo diventando un fan di From Software. Non ero ancora al punto da preordinare i loro titoli perché per quello bisognerà aspettare Sekiro ma ero certamente dinanzi ad uno dei miei studio preferiti quanto lo posso dire oggi di Remedy. E mentre io intanto diventavo sempre più fan di questo studio viene annunciato Elden Ring. Elden Ring ha rappresentato per me il primo titolo From dove ho dato veramente attenzione alla lore del gioco. Nei Souls precedenti leggevo ben poco dalle descrizioni di quanto tenevo e magari poi andavo a guardare dei video che spiegassero quanto c'era di importante da notare. Mentre in Elden Ring questo ecco me lo sono diciamo fatto da solo questo lavoro di interpretazione e mi ha condotto decisamente ad un'esperienza di gioco molto migliore specialmente dovendomi rendere conto dopo anni che alcuni dei miei momenti preferiti dell'opera riguardano rivelazioni di trama. Elden Ring è di sicuro il mio titolo open world preferito che mischia in maniera eccelsa le dinamiche dei Souls ad una formula abbastanza stantia e veramente poco innovativa del mercato odierno. Posso ben dire che Elden Ring è sicuramente uno dei miei titoli preferiti e ci sarebbe veramente moltissimo da dire ma non voglio che questa breve introduzione smetti di essere tale. Giungiamo dunque all'annuncio di Shadow of the Earth 3. Credo sia giusto dire come giunti a questo annuncio io avessi già giocato tutti i titoli from di questo genere da Bloodborne a Sekiro che non è propriamente un Souls ovviamente ma è elementi Souls. Avevo anche giocato tutti i DLC di Dark Souls 3 e anche Artorias of the Abyss e quindi certamente non mi posso definire un giocatore esperto o tanto capace però comunque avevo già finito tutti i giochi di From Software e tutti i contenuti che avevo acquistato prodotti da loro. Ho detto prima come Elden Ring per me ha un primato per quanto riguarda la lettura e l'interpretazione della lore per conto mio. Shadow of the Earth 3 ha un altro primato in questo percorso in quanto si tratta del primo contenuto From Software che non ho finito almeno mentre registro questo video ma io dubito che la cosa cambierà in futuro. E questo a fronte del fatto che io ho adorato Shadow of the Earth 3 ma sono anche dovuto giungere alla conclusione di non essere sufficientemente bravo per poter completare questo DLC anche se questa non è l'unica motivazione. Vediamo di mettere in chiaro cosa della mia esperienza con questa magnifica espansione di Elden Ring abbia apprezzato moltissimo e cosa invece non abbia apprezzato affatto. いう So bereft of I. Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of mesmas flame. Le performance in game sono quanto meno brilla di questo DLC, o dovremmo dire di Elden Ring in generale. Avendo giocato Elden Ring dal day one, so bene come la situazione si è enormemente migliorata rispetto a due anni fa, ma in questo DLC si va comunque incontro a cali di framerate molto frequenti, stuttering, crash, che a onore del velo sono diminuiti sensibilmente con il primo aggiornamento che ha ricevuto il DLC, ma non sono del tutto spariti. Questo ovviamente a prescindere dal tipo di PC sul quale si gioca l'espansione. Da questo punto di vista ho notato diverse lamentele da parte del pubblico, che sono ben corrette in quanto avere simili problemi dopo anni dalla release date, non è affatto accettabile. Questo ha avuto un impatto abbastanza negativo anche nella mia esperienza di gioco, ma non il solo da questo punto di vista, perché anche se non ho la possibilità di dimostrare quanto sto per affermare, discutendo con amici e altri appassionati dei titoli from, ho notato come alcuni giocatori, fra cui me, sono andati incontro a dei problemi di input con il proprio controller. Ho testato il controller per verificare se magari alcuni tasti non funzionassero, anche perché questo controller ce l'ho da diversi anni, ma mi sono ritrovato smentito da questo punto di vista, perché il mio controller funziona ancora molto bene, ma durante il DLC, a volte, mi è sembrato che il tasto per schivare non funzionasse a dovere in determinate situazioni. Mi rendo conto che, non potendo dimostrarla questa cosa, le mie rimangono delle parole sostanzialmente vuote, che possono tranquillamente nascondere il fatto di non ammettere di non saper schivare, ma voglio comunque fare una precisazione. In tanti anni passate a giocare i titoli from, su un PC che ha visto tre GPU diverse, tre processori diversi e su una PS4, io non ho mai neanche lontanamente avuto questo problema in qualsiasi gioco prima dell'espansione di Elden Ring. Perché un conto è sbagliare a schivare. Se uno sbaglia a schivare, sbaglia semplicemente a schivare. E, devo dirlo, nemmeno nel gioco base di Elden Ring ho mai trovato questi problemi. Però con Shadow of the Year 3 sento per la prima volta di volerlo dire, di voler dire che, insomma, non mi è sembrato sempre del tutto lineare il modo nel quale l'input della schivata andava riconosciuto dal titolo. Può essere tranquillamente falsificata la mia affermazione, e io comunque non la posso dimostrare nel mio piccolo, ma ha rappresentato una parte della mia esperienza in game che ho riscontrato anche in altri giocatori, anche se questo non dimostra assolutamente nulla. Rispetto al gioco base si può certamente dire che non manchi nulla di quanto già visto da un punto di vista della mera esplorazione del gioco. La bellezza dei panorami, il senso di sfide, di scoperte, i nemici ostici e le ricompense di vario genere dietro l'angolo, i bizzarri personaggi, le descrizioni degli oggetti, sono tutti elementi che non svaniscono affatto da Shadow of the Year 3. Seguire il percorso del gentile Mikkel riproduce nuovamente quell'esperienza con la propria Blind Run in Elden Ring, tramite le terre dell'ombra, un luogo molto più vasto e vario di quanto From Software abbia lasciato intendere prima del rilascio del DLC, visto che Miyazaki definiva questa espansione grossomodo paragonabile a Sepolcride. Un assunto questo che credo abbia la stessa validità dell'affermare che per poter completare il Dead Ring in Blind Run bastino 30 ore generalmente. Nella mia esperienza personale tuttavia posso ben dire di non essere rimasto completamente soddisfatto proprio dalle ricompense appena citate, perché come nel gioco base molto spesso si va incontro a oggetti pressoché inutili, anche se, sì, questo è inevitabile a seconda della build che si sceglie, ma anche sin troppo ripetuti a prescindere dal tipo di build che si utilizzi. Teniamo bene a mente che questo DLC è creato come un contenuto non successivo al finale di Elden Ring, e dunque ci si può generalmente attendere che sia ben pregno di ricompense volte a migliorare le armi, armature e quant'altro, in vista del finale del gioco e dei contenuti endgame o New Game Plus. Non ci si deve stupire molto dunque che questo DLC ci ricompensi molto spesso con dei materiali per potenziare le armi, dei ricettari, vari ingredienti per il crafting, talismani di vario genere, e certamente questo offre, come già notato, molta varietà nelle ricompense da trovare, ma nella mia esperienza non c'è spesso un adempimento delle aspettative riguardo alla ricompensa trovata rispetto al tipo di nemici che si affronta e anche alle peculiarità del dungeon nel quale si trova tale ricompensa. Trovare l'ennesimo ricettario o l'ennesima pietra per la forgiatura, neanche di livello troppo alto alla fine di un dungeon e dopo aver affrontato magari importanti e imponenti nemici, non ha generato esattamente nella mia blind run la migliore esperienza di gioco, appiattendola ad un certo punto e magari portando a rendere meno emozionante affrontare un nuovo dungeon, già presupponendo quel che avevi trovato senza potermi aspettare particolari novità. Per quanto riguarda l'esplorazione, per quanto Shadow of the Earth 3 mantenga fede all'assunto se vede un posto, ci posso andare, spesso questo non è facilmente intuibile, considerando che alcune aree di gioco perfettamente visibili sono all'apparenza ricoperte di una fitta nebbia, facendoti intuire come nello si possa raggiungere a prima vista, per poi invece sorprendere le tue aspettative. Ho letto di alcuni giocatori che si sono lamentati della gestione della mappa di gioco, che non risulterebbe sufficientemente chiara per capire a che profondità ci si trovi o quanto vasta sia l'area che ci circonda, specie se si è sotto il livello della superficie, o anche per trovare scorciatoio con legamenti fra le varie aree. Devo ammettere come anche io ho avuto una certa difficoltà a orientarmi con la mappa in determinate situazioni, in quanto non sempre si capisce a che livello di altezza siano poste alcune aree, o quando si va sotto la superficie si va incontro allo stesso problema. Non importa quanto sotto la superficie si vada, perché non si ha quasi mai una corretta descrizione del punto esatto nel quale ci si trova, perché si può osservare solo la superficie. Devo dire però come, salvo due aree di gioco nelle quali forse il percorso per raggiungerle è molto più complicato dal solito, per quanto riguarda le altre posso dire che non ho mai avuto particolari difficoltà, nonostante non capissi bene dove si trovassero a livello di altitudine, e come raggiungere effettivamente tramite delle scorciatoie. Alla fine dei conti basta esplorare con una certa attenzione per ritrovarsi magari dinanzi a passaggi che collegano due aree apparentemente separate, oppure a dei dungeon che si rivelano molto più lunghi e importanti di quanto si presupponeva all'inizio, e che risvelano un percorso verso una determinata sezione della mappa non ancora esplorata. Voglio spendere qualche parola sulle aree di gioco all'estremità della mappa. Sono paragonabili queste per contenuto all'arena di Radan. Ci sono diverse macrozone del gioco che sostanzialmente, per quanto ampie possano essere, includono ben poco in realtà, e mi riferisco alla base delle rovine di Row, quanto al percorso che conduce verso Bale, il picco frastagliato, ma non di meno anche alla costa Cerulea e anche alle rovine delle dita sparse per la mappa. Nel primo caso abbiamo una vasta zona di mappa che contiene a malapena qualche ricompensa, un piccolo dungeon secondario e dei nemici sparsi per la mappa qua e là e poi nient'altro. Il resto è veramente parecchio vuoto o comunque non c'è nessun genere di componente che stimoli il giocatore. Nel secondo caso invece, con il picco frastagliato insomma, questo si può definire letteralmente un corridoio con ben pochi punti di interesse, e che vede forse una presenza alquanto inutile per quanto giustificata di vari drag minori da combattere. La costa Cerulea invece serve più come un incrocio fra le varie destinazioni della mappa che è piuttosto come area a sé stante, nonostante l'estetica sia sorprendente e nonostante l'area sia tutt'altro che ristretta. Ha qualche item pregievole sì, ma sono relativamente pochi e decisamente sono poco utili in buona parte. Le rovine delle due dite invece, per quanto siano pregne di lore e conducano ad ampiare le informazioni in nostro possesso su Marika, sulla volontà superiore, sulle due dite e su altri aspetti della lore, sono comunque delle aree pressoché vuote anch'esse. Il resto della terra delle ombre invece, specie le zone centrali e i dungeon principali, sono gestiti in maniera completamente diversa. Basta pensare sempre delle rovine di Row alla sezione superiore delle stesse. Si tratta davvero di un percorso molto più ricco rispetto alla base appena citata, con un discretamente lungo dungeon da completare, molti più nemici fra i quali alcuni davvero ostici da affrontare e diversi oggetti da raccogliere. Lo stesso si può dire del villaggio di Bonnie o della prigione di Bonnie, aree contenute ma dotate di contenuto più vario rispetto alle vaste vuote zone prima citate e con le quali ho avuto un'esperienza molto migliore a conti fatti. Posso anche dire che una delle aree più nascoste del gioco, i boschi abissali, non solo contiene uno dei migliori boss dell'intero DLC, ma anche soluzioni di gameplay pressoché uniche all'interno del mondo di Elden Ring. I dungeon principali, come ci si può ovviamente attendere, sono strutturati a livello generale in maniera molto simile a quelli del gioco principale, ponendo dinanzi al giocatore non solo nemici di vario tipo e di varia difficoltà, ma ponendolo anche dinanzi ad un percorso affatto lineare mentre si esplorano questi dungeon, con molteplici segreti da trovare, con sezioni di platforming tutt'altro che banali e richiedenti poca attenzione. Questa probabilmente rappresenta una delle caratteristiche migliori di Elden Ring, ovvero la gestione oculata del salto, una meccanica certamente esistente anche in altri titoli di From e che è stata creata ben prima che Elden Ring venisse al mondo, ma che all'interno di questo titolo assume un rilievo notevole per quanto riguarda il level design. Generalmente nei titoli open world il salto è una meccanica ben poco sfruttata a dovere e che non conduce ad alcun tipo di sfida. Le zone normalmente accessibili tramite i salti sono molto semplici da raggiungere, difficilmente si va incontro a problemi nel farlo o si va incontro a delle sezioni di gioco molto importanti fondate proprio su questa meccanica. In Elden Ring la questione è decisamente diversa, come del resto lo è sempre stata con i Souls per quanto riguarda la caduta. La caduta, ben gestita, ha sempre dato accesso ad aree di gioco opzionali o meno, con vari segreti, boss e via dicendo. In Elden Ring il salto diventa un elemento di design sfruttato particolarmente per concedere non solo l'accesso ad aree di gioco quali tetti o torri divine, ma diventa anche un elemento di sfida fra l'ambiente e il giocatore. Nel DLC questo elemento non è stato decisamente posto in secondo piano e ci sono ancora oggetti e aree da raggiungere a proprio rischio e pericolo tramite il potenzialmente fatale salto. Di per sé non si tratta di nulla d'eccezionale ovviamente, in quanto stiamo parlando di saltare, ma in un titolo open world è bello vedere come questa dinamica non simi limiti all'essere messa lì tanto per. Una questione altrettanto interessante riguarda la gestione dei dungeon secondari. In questo caso Elden Ring proponeva quasi sempre la stessa idea con un boss finale ripetuto altrove alla fine di un mini dungeon e questi ultimi erano anche estremamente simili se non riprodotti uno a uno fedelmente da un punto di vista del mero design. Raramente ci si trovava dinanzi ad un dungeon secondario particolarmente unico. Non è certamente qualcosa che mi ha entusiasmato molto nella mia blind round di Elden Ring e si può ripetere sia il discorso fatto sulle ricompense sia il discorso fatto sulla necessità di inserire così tanta roba, che certamente evita il problema delle mappe vuote prima evidenziate, ma d'altro canto crea quella bulimia di contenuto che porta inevitabilmente ad una ripetizione sin troppo levata di quanto già visto. In Shadow of the Earth 3 la questione è completamente diversa, in quanto i dungeon secondari non solo non finiscono sempre nello stesso modo, ovvero con un boss, ma sono anche molto diversi fra loro e devono essere risolti in modi diversi talvolta. Una modifica di non poco conto, visto che rende l'esplorazione di questo genere di contenuto molto più appagante, senza sapere per forza in anticipo cosa ci attende e come uscire dal dungeon sapendogli averlo completato. Non mi posso dunque lamentare dell'esperienza avuta con l'espansione da questo punto di vista, anzi, si può ben dire, come detto prima, che From abbia decisamente superato le aspettative per quanto riguarda i contenuti di questo DLC, che se fosse stato venduto come un gioco spin-off di Elden Ring non avrebbe generato alcun tipo di indignazione. Le recensioni su Steam erano calate nei primi giorni dall'uscita del DLC a causa di problemi di performance, di cui è certamente legittimo lamentarsi, ma anche per via della suddetta elevata difficoltà riscontata nei giocatori nel DLC. Partiamo con il ricordare come il DLC ha un bilanciamento slegato dalle dinamiche del gioco base, visto che aumentare la benedizione dell'albero ombra tramite gli omonimi frammenti è pressoché il modo fondamentale per poter avanzare all'interno del DLC. Alcuni utenti hanno parlato di difficoltà artificiale, evidenziando come vari boss non siano divertenti da affrontare. Si parla di come i boss non lasciano infatti molto spazio per attaccare, abbiano delle combo sin troppo veloci e senza particolari pause, e che dunque costringano a giocare in maniera molto passiva. In aggiunta a questo, spesso si fa riferimento al danno elevato dei boss e alla loro eccessiva aggressività. Posso dire come all'inizio della mia esperienza, effettivamente ho pensato le stesse cose, in parte, visto che il livello di difficoltà dei boss e dei nemici in generale certamente è molto elevato e ignora completamente l'esperienza accumulata in Enderling precedentemente, anche volendo mettere in conto il fatto di riprendere il titolo in mano dopo diverso tempo. Il problema è che in queste lamentele, che non posso dire siano completamente prive di fondamento, manca di evidenziare proprio l'utilizzo della benedizione dell'albero ombra, aspetto fondamentale per poter proseguire nel DLC, come già detto, quantomeno in maniera più agevole, ed anzi, la benedizione è stata persino baffata qualche giorno dopo l'uscita del DLC per rendere più potenti i primi 12 livelli in particolare, senza però nulla togliere ai restanti. La gestione dell'open world e dell'esplorazione è legata a questo aspetto in maniera molto semplice. Ci si può infatti trovare dinanzi ad un boss che rispecchia esattamente le caratteristiche evidenziate dai pareri negativi riguardo il titolo, ma dato che alla mappa del titolo si può accedere in completa libertà, affrontando nemici meno potenti di un boss primario, si possono tranquillamente esplorare, come è voluto che sia, le varie zone della terra delle ombre e ottenere i preziosi frammenti della benedizione dell'albero ombra a fine di potenziarsi e tornare in condizioni migliori contro un qualsiasi boss che ci risulta ostico. Personalmente ho notato i concreti benefici della benedizione dell'albero ombra contro Messmer, pre-buff, affrontato varie volte con la benedizione a livello 7 e poi sconfitto con la benedizione portata a livello 10, sempre pre-buff. Il danno subito minore lo si notava e come, quanto quello fatto a Messmer tramite una qualsiasi arma. La benedizione non è affatto un fattore opzionale nell'espansione, ignorarla conduce sicuramente ad un'esperienza di gioco molto più difficile rispetto a quella prevista da From Software. Se l'intero DLC è costruito proprio affinché esplorandosi migliorino le proprie condizioni, non farlo e lamentarsene non risulta proprio molto sensato. Del resto non è una novità che il DLC di un gioco From Software sia molto più impegnativo del titolo base e basta ricordare ad esempio Ashes of Ariandel o Artorias of the Abyss, entrambi DLC con boss e nemici molto più ostici da affrontare rispetto a quelli contenuti nel gioco base. Voglio anche aggiungere come, trattandosi di un contenuto endgame, pretendere di non usare strategie adeguate a quanto ci si trova davanti, pretendendo sempre di poter fare affidamento solamente sulle proprie abilità, anche quando non sono evidentemente sufficienti, non è affatto l'approccio corretto per un contenuto del genere. Ma come dicevo prima, queste critiche all'espansione non sono del tutto infondate. L'ho certamente vissuto in prima persona avendo, in Elden Ring come anche in altri Soulslike, sempre cercato di puntare alla sconfitta del nemico senza particolari aiuti o build eccellenti per mero gusto personale, perché mi piace giocare così insomma. Ma dinanzi a Shadow of the Air 3 è molto più sensato mettere l'orgoglio da parte e adattarsi ad affrontare i boss nella maniera migliore possibile. Che si faccia affidamento sulla benedizione dell'albero ombra o meno, questo purtroppo non cambia nulla del moveset dei boss e dei nemici. Il problema principale dell'espansione a modire risiede proprio in quanto descrivevano queste persone, cioè nella combinazione dell'eccessiva aggressività dei boss ad ingenti danni provenienti da un singolo colpo o da una combo intera effettuata in poco tempo. Scansare gli attacchi dei nemici e giocare in maniera molto aggressiva credo che sia il modo migliore per affrontare Elden Ring in generale, in quanto è proprio al termine dell'erro combo che i nemici sono più vulnerabili e stare sempre passivi a distanza non concede altro che vantaggio ai propri nemici, ma su questo concerto tornerò più avanti discutendo dei boss. Il problema secondo me sta nella quantità di errori che ci si può permettere durante molte delle boss fight dell'espansione, visto che il minimo errore può essere davvero fatale, magari senza neanche prendere così tanto danno da dimezzare o peggio la barra della salute. Prendendo del danno si va incontro al dover comunque scansare tutto il resto della combo di un nemico che può rivelarsi veramente molto lungo e con tempistiche di dodging diverse per ogni attacco. Mi sono trovato dunque in situazioni, molto frequentemente, dove prendere un qualsiasi genere di danno conduceva alla mia morte, perché i nemici non consentivano innanzitutto di curarsi immediatamente e cercando di provarci lo stesso si veniva miseramente puntualmente puniti e mi spingevano dunque a dover cercare una finestra sicura per potermi curare necessariamente al termine delle loro combo, scegliendo quindi di non effettuare un qualsiasi danno, ma di investire quel tempo guadagnato nella cura. Ma le combo, come già detto, possono essere molto lunghe anche perché al termine di una combo non è detto che il nemico non ne concateni una seconda e non c'è sempre modo di capire quando lo farà e quando no. Quindi intanto bisogna continuare a scansare per poter raggiungere una finestra per potersi curare, ma il minimo errore che è fomentato dall'essere sotto pressione per volersi curare il prima possibile e da dover comunque eleggere perfettamente il boss può condurre molto velocemente non solo a prendere più danno, ma a morire. Combinando tutti questi elementi, affrontare un boss è certamente molto più difficile rispetto al titolo base, ma è stato a volte frustrante perché bisogna davvero essere metodici e ben preparati per poter affrontare boss fette di questo tipo, a prescindere che ci piacciono o meno. Gli errori che ci possiamo permettere sono veramente pochi e la benedizione dell'albero ombra certamente aiuta molto nell'affrontare questi boss, concedendo una maggiore resistenza ai danni e aumentando quelli inflitti, però non modifica la struttura base delle boss fight. C'è da aggiungere ad ogni modo, sui frammenti dell'albero ombra, come diversi giocatori si siano lamentati della mancanza di chiarezza nel trovare questi frammenti necessari per facilitarsi il DLC. A differenza del gioco base, con i semi d'oro, i frammenti non sono rinvenibili in maniera tanto lineare e spesso sono presenti nelle location più disparate e prive di qualsiasi senso. Nella mia blind non ho dato molto spazio a questo problema, sino a quando non sono giunto al termine del DLC, perché penso di aver comunque ottenuto i frammenti necessari per poter proseguire con relativa semplicità, ma in effetti è fattuale come soltanto alcuni dei frammenti si trovano in luoghi speciali, diciamo così, come ad esempio le croci di Mikkel, mentre nel resto del titolo si trovano davvero in giro a caso, nonostante la loro estrema importanza. Sono convinto comunque che From non abbia gestito male questa dinamica, perché se i frammenti fossero stati sempre ben visibili e ben riconoscibili, questo probabilmente non spingerebbe il giocatore a credere che, potenzialmente, ogni ricompensa della mappa potrebbe essere esattamente quella che cerca, quindi portandolo comunque ad esplorare il più possibile. Dall'altro lato però, dover riesplorare una mappa completamente per cercare eventuali frammenti persi e potenziarsi al fine di sconfiggere determinati boss è qualcosa di spiacevole, in quanto non si può per l'appunto essere mai sicuri che la prossima ricompensa sarà proprio quella che si desidera. Questo lo dico anche perché nella mia blind run sono riuscito a raggiungere il boss finale, domendomi però rendere conto di come non avrei certamente potuto batterlo con il mio livello attuale di benedizione. E quindi, per provare ad avere una chance più concreta contro un simile nemico, avevo messo in conto di riesplorare tutto il DLC alla ricerca di questi frammenti o seguire magari una guida completa su come trovarli, che però avrebbe reso la cosa paragonabile al ritrovamento di alcuni collezionabili, cosa che personalmente non mi dà particolare gioia. Discorso diverso lo si può dire delle ceneri spiritiche che sono sempre ben individuabili e aiutano a migliorare la potenza degli spiriti alleati usati nel corso del DLC. Non si capisce esattamente perché lo stesso trattamento non è già stato fornito per i frammenti dell'albero ombra, a ben vedere, ma si può capire bene che tali frammenti possano finire ovunque potenzialmente, essendo pezzi dell'albero ombra, ma anche quelli dell'albero madre erano, per l'appunto, frammenti dell'albero madre ed erano ben evidenziati nonostante sparsi in giro per il mondo di gioco. Voglio partire subito con il dire, parlando dei boss, come ne abbia affrontati alcuni che sono diventati fra i miei preferiti come Mitra o Mesmer, decisamente boss fight che mi hanno divertito moltissimo nonostante la loro difficoltà. From Software ancora una volta si è rivelata capace di creare degli scontri unici nel panorama soulslike e non di meno nel panorama open world, ma direi benissimo nel panorama tripla A, visto che l'unica serie, a mio dire, che può vantare lo stesso livello di qualità negli scontri di questo tipo è la serie di Monster Hunter. Fatto questo preambolo, dalla mia esperienza posso dire che alcuni dei boss non hanno degli attacchi del tutto puliti e chiari, anche se non credo questo rappresenti una novità per From Software. Un altro punto importante riguarda anche le finestre d'apertura dei boss di cui accennavo in precedenza, che quasi sempre concedono solo il tempo per un attacco, a meno che non si giochi, come già detto, in maniera molto molto aggressiva. Riguardo la poca chiarezza di alcuni attacchi, Mesmer a volte combine il suo più semplice attacco infuocato con il suo affondo, e questo non consente di capire esattamente quando Mesmer inizi l'animazione, visto che è coperta dalla sua palla infuocata. Sempre Mesmer possiede una lunga combo dove schizza per la mappa, che non sarebbe troppo difficile da gestire se non fosse, a mio dire, per la parte finale. L'attacco aereo non è sempre leggibile in maniera netta, per quanto semplice da evitare, in quanto la telecamera non consente di capire con chiarezza cosa stia facendo Mesmer, perché Mesmer finisce per essere o coperto da noi, oppure cercando di schivare, copriamo comunque la sua visuale in qualche modo, magari facendolo uscire fuori, e non possiamo avere un'idea chiara, se non per sound design, di quando Mesmer stia per catapultarsi su di noi. Per fortuna questo difetto è compensato dalla facilità con la quale si può schivare la parte finale della combo, visto che ci si può semplicemente allontanare e poi schivare la parte conclusiva, oppure schivare verso di lui una prima volta ed evitare le sue lance semplicemente schivando a tempo senza particolari difficoltà. Mesmer, di norma, nella prima fase non lascia molte finestre per colpirlo più di una volta, visto che al termine di ogni combo si prende davvero pochi secondi per tornare ad attaccare, e se rimane impassibile dinanzi a noi, attende solamente una nostra mossa per controbattere. Ma va notato che, se si gioca in maniera particolarmente aggressiva, riuscendo a schivare ogni suo attacco usando ogni finestra a disposizione, la prima fase di Mesmer può essere decisamente saltata a pie pari, e si può fare ben di più di un attacco, o se ne può fare magari solo uno, ma così a breve distanza di tempo da concatenarne di diversi che generano un grosso vantaggio nei nostri confronti. Nella seconda fase di Mesmer le cose cambiano certamente, visto che, anche se ha un moveset ampliato e magari ha una maggiore mobilità, Mesmer concede diverso tempo per eseguire anche delle combo complete, e le finestre per poterlo colpire sono molto più semplici da intuire, come quando, al termine dei suoi attacchi in forma serpente, si prende diversi secondi per recuperare le forze, e lo possiamo tranquillamente colpire mentre è ancora in forma serpente, ma ormai è sfinito. Un discorso analogo può essere fatto con Romina, anche se questo non c'entra molto con la mossa in sé, Romina talvolta può nascondere il suo attacco con la culeo dietro un muro dell'arena, rendendo impossibile capire esattamente quando parta l'attacco con un tempo sufficiente, ma si tratta di una sbavatura più che di un grave errore, e comunque è capitato veramente poche volte. Nella prima fase Romina lascia spazio per colpirla ripetutamente, anche sino a stordirla del tutto, e non ha combo particolarmente illegibili, ma a differenza di Mesmer o altri boss, nella seconda fase inizia a diventare un po' più caotica, ma comunque ancora gestibile, lasciando comunque ancora spazio per colpirla a dovere anche con armi pesanti. Se signore boss citati possiedono più che altro difetti condonabili, o che non rappresentano qualcosa di così grave, ecco, un discorso completamente diverso va fatto per l'Ippopotamo, che presumo di poter dire sia uno dei peggiori boss del DLC, e di From in generale. L'Ippopotamo non concede alcun livello di chiarezza minima in qualsiasi momento della sua boss fight. La telecamera non aiuta a capire cosa succede esattamente, e non fa altro che favorire il completo caos, specie quando il boss si trova sopra di noi o vicino a noi, il che capita praticamente sempre, visto che i suoi attacchi tendono a scaraventarlo verso il giocatore. Nella mia esperienza, per quanto questo boss non abbia nulla di complesso, rappresenta sicuramente una spiacevole boss fight, con pochi elementi divertenti o di reale sfida. Butterlo si è rivelata più un'impresa legata a fattori completamente random, e nella seconda fase purtroppo le sue dinamiche non migliorano affatto. Ho un parere simile anche del Leone, che è certamente uno dei più bei boss a livello estetico mai realizzati da Front Software, ma non lo è allo stesso modo per chiarezza. Il problema principale qui, secondo me, è quello appena descritto per l'ippopotamo, legato alla difficoltà nel capire come e quando il Leone attacchi, anche se magari in misura minore. E comunque, a onore del vero, non accade sempre di non poter vedere o capire cosa stia facendo il Leone, è una questione legata a determinate fasi della boss fight, specialmente nella seconda parte, ma risulta in generale molto meno comprensibile di boss fight, quali Mesmer o per esempio l'Avatar dell'Albero Ombra, forse evidenziando di nuovo più i limiti della telecamera che del boss in sé, ma anche mostrando come From non sia riuscita a trovare una soluzione a questo ricorrente problema da quando esiste. Spendendo giusto due paroline sull'appena citato Avatar dell'Albero Ombra, penso sia un boss molto semplice, grossomodo ai livelli di mitra, ma comunque appagante da affrontare e che non ha un moveset particolarmente frenetico. È stato un po' strano vederlo nascosto così tanto nel DLC considerando quanto poco complesso sia rispetto ai boss principali, ma nella sua facilità rappresenta comunque una degna sfida ed è molto più comprensibile di tanti altri boss. Quel che secondo me rappresenta il più grande dispiacere fra le boss fight presenti in gioco è il discorso relativo ad alcune di quelle secondarie e alla conclusiva. Le boss fight secondarie hanno davvero una qualità altalenante. Sono presenti casi come la regina semi-umana che a malapena attacca e possiede un moveset limitatissimo per non dire assente, oppure il capo sanguidemone che è pressoché una versione più grande dei nemici dinanzi alla sua caverna con un moveset per nulla innovativo e che a malapena può risultare leggermente complicato da affrontare. Si può anche citare la lama di sventura Labrit che è letteralmente un nemico base del gioco con qualche abilità in più che giunti nel suo dungeon lo si è già affrontato qualche decina di volte. Per poi passare invece a boss opzionali molto molto più appaganti come per esempio il Cavaliere della Galera Solitaria che si è rivelato un degno avversario nella Bia Blind quanto l'ho spesso citato Mitra, uno dei miei boss preferiti ma non di meno anche Rakshasa, una boss fight non particolarmente eccellente ma comunque appagante e con un discreto livello di sfida. Notare una simile differenza tanto marcata per quanto riguarda la qualità di queste boss fight in realtà non dovrebbe sorprendere molto perché avendo giocato ad Elden Ring e avendo visto su più ampia scala questo problema di cui ho parlato in precedenza come già detto con boss di fine dungeon pressoché ridicoli ecco forse dal DSi non ci si poteva aspettare granché di diverso però ha lasciato comunque un impatto nella Bia Blind Run e avrei sicuramente preferito non trovare nessun boss piuttosto che questi miseri boss secondari. Il boss finale del gioco invece merita qualche parola in più specialmente perché è la prima volta in un gioco From Software dove io devo dar la vinta al boss che non ho battuto e dunque non ho finito il DLC. A parte la delusione di vedere praticamente nuovamente un boss del gioco base si ha un moveset rinnovato e messo però come conclusione di un DLC di un'espansione di questo tipo che penso rappresenti un unicum nella storia di From ecco affrontare questo boss ripetuto ad una certa non mi ha veramente più fornito alcun genere di divertimento. A quanto già detto sulle boss fight in precedenza si aggiungono in relazione alla boss fight conclusiva l'imprevedibilità di alcuni attacchi e la tremenda, a dir poco, fase 2 del boss. La fase 1 sarebbe certamente gestibile richiede magari come con Messmer di memorizzare le combo e di riuscire a trovare ogni momento adatto per poter colpire il boss senza rischiare troppo ma in alcuni casi questa boss fight non solo può dare vita a delle combo che vengono spammate o che si ripetono più volte in maniera completamente casuale magari mai prima di allora ma può fingere che ci siano alcuni momenti sicuri per colpire il boss che smettano di essere tali in quel determinato momento. Mi è capitato più volte di vedere il boss completare un attacco a una combo alla quale di norma seguivo una pausa per potersi curare o colpirlo per poi finire nettamente con l'essere distrutti da una combo improvvisa che seguiva a ruota. Questo aggiunge un fattore imprevedibilità proprio in quei momenti che dovrebbero essere usati dal giocatore per ottenere dopo aver schivato la combo del boss una giusta ricompensa, cioè del danno inflitto ma con questo boss le cose possono prendere una piega che non si può semplicemente imparare a memoria per controbattere. Della fase 2 invece tecnicamente non potrei parlare perché non fa parte della mia esperienza in quanto non ho nemmeno potuto raggiungerla perché non ho fatto un sufficiente numero di tentativi contro questo boss per poterla vedere almeno una volta ho mollato prima ma ho visto video al riguardo di questa fase ho anche visto come altri giocatori si sono approcciati a questo scontro e devo dire con tutte le critiche mosse riguardo la più chiarezza della fase 2 e con la sua difficoltà artificiale eccessiva ecco con tutte queste critiche secondo me si è centrato esattamente il punto dei problemi relativi alla boss fight conclusiva del DLC. La fase 2 del boss non solo non concede sufficiente chiarezza per comprendere quando alcuni attacchi partano ma è inutilmente piena di effetti visivi che non fanno altro che confondere il giocatore e rendere ancora più complesso quanto si sta affrontando senza un reale aumento di sfida legato alle capacità del boss ma solo a come si presenta a livello visivo. Ho pensato di potenziarmi, di cambiare strategia, di evocare ma ho dovuto ammettere come battere un simile boss mi avrebbe dato la stessa gioia che mi ha concesso battere Malenia e New Game Plus cioè niente. Questo boss non mi sembra affatto divertente da affrontare ed è la prima volta nella mia esperienza con i titoli From Software che mi trovo davanti ad un nemico che mi fa chiaramente capire che io non sono adatto per affrontarlo ma che mi sfinge, diciamo, a farmare per poter migliorare le mie possibilità. In questo caso, come detto prima per avere un maggior successo con Radan dovrei andare in ricerca di ulteriori frammenti ma si creerebbe quella situazione che ho prima descritto dovrei andare in giro a cercare dei collezionabili quando ormai ho esplorato l'intera mappa dell'espansione ok, non al 100%, ma osservando comunque ogni genere di punto di interesse principale personalmente non ho alcuna voglia di ripercorrere con una guida o meno che sia un'intera mappa estesa solo per trovare i frammenti ulteriori di benedizione e magari avere qualche concreta chance con questo boss cambiare strategia sarebbe magari opportuno certo, me ne rendo conto ma se non posso giocare come preferisco e se non trovo il boss particolarmente divertente non credo davvero valga la pena di spenderci così tanto tempo solamente per vederlo cadere non è la prima volta che mi trovo davanti una simile riflessione perché mi è capitato con boss non obbligatori come ad esempio il demone dell'odio in Sekiro questa volta si tratta di un boss obbligatorio però che mi si pone davanti come non particolarmente gradito ai miei occhi e la mia scelta è capitolare ammetto che non sono in grado di batterlo nelle mie condizioni perché non sono abbastanza bravo l'ultima cosa che ho pensato alla fine del mio ultimo tentativo con Radan è stata quella di dovermi rendere conto di come anche nel caso avessi imparato a memoria completamente bene la fase 1 questo mi avrebbe posto dinanzi un altro muro nel quale sarei morto dopo pochi secondi ogni singola volta dopo aver completato una più che complicata fase 1 senza poter imparare nulla del moveset della fase nuova perché sarei morto immediatamente e dovendo praticamente rifare tutta la fatica perché sarebbe diventata tale per ore senza ottenere risultati per fare un esempio analogo al DLC con Mesmer che è uno dei boss più belli che io abbia affrontato non mi sono mai sentito affranto o svogliato nell'affrontarlo ancora e ancora dopo che mi batteva anche dopo ore di tentativi e batterlo come volevo io completamente da solo è stata una soddisfazione personale con Radan dopo pochi tentativi ero già saturo diversi giocatori hanno descritto la loro esperienza in Shadow of the Earth 3 nello stesso modo nel quale io ho appena descritto la mia esperienza dovendo ritrovarsi a cambiare approccio radicalmente dovendo ammettere come la build usata sinora nel corso del titolo o dell'espansione non fosse efficace contro un simile nemico dovendo constatare come io personalmente non fossi abbastanza bravo per batterlo con le mie sole forze e giocando come desideravo e questo era generalmente quello che avevo da dire sull'espansione di Elder Ring Shadow of the Earth 3 lo so che nel corso del video non ho speso proprio troppe parole di elogio a riguardo dell'espansione ma dovendo ridurre il tutto in queste breve conclusioni nel fatto se mi senta soddisfatto di averlo acquistato considerando che l'ho preordinato considerando quanto insomma è costato io non posso dirmi di sentire insoddisfatto dell'acquisto se non fosse per il boss finale e non è per la questione di non riuscire a battere ma perché rivedere un simile boss rivedere Radan utilizzato nuovamente come boss conclusivo di un DLC per quanto pre-lore possa anche avere senso e per quanto Mikel ha col suo piano e via dicendo ma non faccio troppo spoiler di trama perché non mi interessa fare spoiler di questo tipo non riesco veramente a trovare la voglia di riaffrontare nuovamente come boss conclusivo di un nuovo contenuto qualcosa che ho già visto nel gioco base poi sì ci sono tutti i problemi delle boss fateci anche da tenere in considerazione che io non sono sufficientemente bravo per affrontarlo d'accordo? però questo è stato veramente il punto peggiore della mia esperienza penso ci sia stato nient'altro che mi abbia veramente fatto crollare la felicità di giocare una simile espansione perché comunque è decisamente un'esperienza da provare Shadow of Gear 3 è magnifico tolto d'accordo i boss riciclati i boss secondari non sono bellissimi magari alcune aree ecco ci si poteva lavorare un po' meglio o non metterle proprio però ad esempio affrontare Bale che ne so oppure scoprire le verità sommarica incontrare i vari personaggi di gioco vedere i dungeon primari così ben realizzati talvolta al punto da superare quelli del gioco base penso che di tutto questo ecco il giocatore che è interessato nel ring e all'espansione debba sicuramente fare tesoro poi non riuscire a completare il DLC come nel mio caso non penso che questo debba contribuire a rendere il DLC come qualcosa di negativo a prescindere soltanto perché magari il boss finale sarebbe un po' da rivedere specialmente nella fase 2 dove ci sono praticamente delle mosse che accecano non penso ci sia un altro modo di dirlo non posso quindi dirmi insoddisfatto di questa espansione penso comunque che From Software abbia decisamente centrato il punto e non credo che questo abbia diminuito la stima che provo per loro la mia fiducia nei loro prodotti sia la boss fat finale del DLC sia la boss fat finale di Elden Ring che insomma finalmente hanno aggiunto la possibilità di usare torrent dopo due anni ma lasciamo perdere diciamo che in entrambi i casi hanno probabilmente sbagliato comunque non realizzato la migliore delle boss fight possibili per concludere un gioco o un'espansione ma con quella di Radan rimessa di nuovo credo che abbiano sbagliato non solo nel rimettere questo personaggio ma anche nel renderlo così tanto potente al punto da renderlo frustrante per tantissimi giocatori e con questo penso di potervi intanto ringraziare grazie a chi è arrivato sin qui grazie a chi ha visto praticamente tutto il video veramente sono sorpreso sono molto contento che vi sia interessato sino a questo punto e io posso tranquillamente dire che ci si vede alla prossima grazie a tutti